Di nuovo insieme per l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. Piovono polemiche sulla protezione civile del Molise affidata al consigliere delegato Salvatore Ciocca. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il sistema sarebbe stato smantellato e non sarebbe più in grado di intervenire in caso di calamità naturali. Ce ne parla in apertura Giovanni Minicozzi. Un anno e qualche mese di governo frattura e non si intravede ancora alcuno spiraglio per l'economia molisana. Le aziende chiudono, l'edilizia è bloccata, la disoccupazione batte tutti i record negativi, 30.000 famiglie finiscono nella misera condizione di indigenza, le riforme promesse non arrivano, la sanità è sempre più indebitata e relegata alle strutture private. Una condizione dunque di vera emergenza sociale che mette a rischio la stessa autonomia regionale. A dire il vero, molte difficoltà affondano le radici nei tempi andati. Il presidente Frattura non perde occasione per sottolinearlo, ma dimentica che anche lui è stato parte integrante di un sistema che forse non ha saputo utilizzare le ingenti risorse disponibili in quel periodo per creare uno sviluppo autopropulsivo. E soprattutto il governatore, al di là dei proclami, dimentica che da oltre un anno il futuro del Molise è nelle sue mani e che spetta a lui trovare le soluzioni adeguate a fronteggiare le tante emergenze. A proposito di emergenze, ce n'è un'altra fresca fresca che riguarda la protezione civile. Nata nel 2006 e affidata a Giuseppe Giarrusso, cacciato in malo modo da frattura con un'azione persecutoria mascherata da Spoil System, quel sistema era diventato il fiore all'occhiello del Molise che molte regioni ci invidiavano. Oggi invece la protezione civile affidata al consigliere delegato Salvatore Ciocca di fatto è stata smantellata. I mezzi sono senza revisione e forse senza assicurazione e le attrezzature di pronto intervento abbandonate. Non esiste più alcuna manutenzione alle reti di monitoraggio ambientale e perfino il carrello satellitare è diventato inutilizzabile. Dunque non esiste più alcuna prevenzione del territorio né dati attendibili sui quali calibrare gli interventi. Anche la sbandierata missione in Bosnia, presentata con lo stile della parata russo-sovietica degli anni di guerra fredda dalla coppia Frattura Ciocca, in realtà altro non è che l'invio alle popolazioni alluvionate di due soli mezzi, peraltro secondo indiscrezioni anch'essi scaduti di revisione, una cisterna di carburante e meno di dieci volontari costretti a pagarsi le spese di tasca propria. Tutto qui. Per fortuna dei molisani in questo anno non si sono verificate catastrofi naturali di nessun tipo e con lo smantellamento in atto del sistema di protezione civile non resta che sperare nella benevolenza del Signore, magari convidando anche nell'intercessione della divina coppia Frattura Ciocca. Cambiamo argomento, è ormai ufficiale il programma della visita di Papa Francesco a Campobasso e Isernia tra un mese esatto. Nel capoluogo sono stati confermati la messa all'ex Romagnoli e il bagno di folla per le vie del centro, mentre a Isernia nessuna modifica alle tappe già annunciate nei giorni scorsi. Sentiamo Tonino Danese. A un mese esatto dall'arrivo di Papa Francesco in Molise che sarà sabato 5 luglio c'è l'ufficialità del programma. Lo ha comunicato l'arcivescovo di Campobasso Bregantini, con lui il governatore Frattura, il sindaco del capoluogo Battista, il rettore dell'Università Palmieri e il vicario del prefetto. Francesco atterrerà in città alle 9 all'Università del Molise dove sarà allestito uno spazio apposito tra il rettorato e la facoltà di Agraria. L'area, ha detto Palmieri, diventerà poi verde con un prato e sarà intitolata al pontefice. Nell'aula magna dell'Ateneo l'incontro con il mondo del lavoro presente, ovviamente anche quello accademico. Il Papa ascolterà le parole di un agricoltore di Riccia laureato in Agraria e di un operaia della Fiat e a loro risponderà. Subito dopo, in Papa Mobile, attraverserà via Manzoni per un primo bagno di folla. Costeggerà l'ex Romagnoli salendo verso via Principe di Piemonte e sosterà intorno alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Qui indosserà i paramenti per la messa, paramenti leggeri, su sua richiesta in quanto soffre il caldo e per non avere complicazioni respiratorie a causa di problemi al polmone. Quindi di nuovo in Papa Mobile, sempre su via Principe di Piemonte per arrivare all'ex Romagnoli dove la cerimonia religiosa è prevista alle 10.15. Francesco celebrerà messa su un palco di fronte dove erano le tribune. L'altare, l'ambone e il supporto dove sarà collocata la statua della Madonna della Libera saranno in ferro battuto, realizzati dagli ospiti della comunità Lavalle di Toro. Il crocifisso sarà quello di Pietra Catella. Sull'altare, come simboli della ruralità, ci saranno tre piante di olivo e le traglie di ielsi. I muri con i graffiti saranno imbiancati, 10.000 i posti a sedere davanti ai malati e il clero. In tanti saranno in piedi. Il manto del campo sarà coperto con teli per evitare polvere. L'area intorno sarà risistemata, come hanno annunciato Frattura e Battista. Quest'ultimo ha anche parlato di una rotatoria. Terminata la messa, Francesco sempre in Papa Mobile tornerà a cambiarsi nella chiesa di Sant'Antonio per poi immergersi, di nuovo vestito di bianco, nell'altro bagno di folla, salendo verso Via Petrelle e poi da Piazza della Vittoria lungo il Corso fino in Cattedrale per la preghiera sulle tombe dei Vescovi Alberto Romita e Secondo Bologna e l'abbraccio con gli ammalati più gravi. Questo avverrà intorno alle 12.15, quindi il percorso ancora in Papa Mobile lungo Via Ale Mazzini salendo poi per Via 24 Maggio per girare quindi in Via Montegrappa e arrivare dietro la Chiesa del Sacro Cuore alla mensa nella Casa degli Angeli Papa Francesco in una struttura messa a disposizione dal Comune, un ex asilo. alle 13.15 il pranzo. Con la macchina coperta al termine tornerà all'università per partire verso Castelpetroso dove alle 15 incontrerà i giovani di Molise e Abruzzo, parlerà un giovane di Trivento, poi il percorso a Isernia, la visita in carcere e conclusione della giornata in Cattedrale con il saluto. I sei punti dove il Papa si ferma sono tutti sei messaggi di grandissima valenza spirituale ma anche culturale e sociale. Sono attese decine di migliaia di persone, Comune e Regione si impegneranno a sistemare le aree di Campobasso interessate, è stato detto in Curia. Con la collaborazione della Protezione Civile e altri soggetti la Prefettura sta mettendo a punto il piano sicurezza. Saranno migliaia gli addetti tra forze dell'ordine volontari, dislocati cinque punti di soccorso, diversi bagni chimici, traffico ovviamente bloccato e previsti anche percorsi a piedi per i fedeli. Quattro i maxi schermi in Piazza Prefettura, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica davanti ai Cappuccini. Bregantini ha chiesto aiuto alle parrocchie della diocesi per raccogliere fondi, la Regione anche dal punto di vista dell'immagine e il Comune faranno la loro parte, è stato detto. L'Università mette a disposizione la struttura per la sala stampa. Previsto l'arrivo della stampa da tutto il mondo, almeno 200 giornalisti. È finita in Parlamento con un'interrogazione del senatore Di Giacomo al ministro dell'Economia la strana vicenda legata alla messa in liquidazione della FAI. L'azienda speciale della Camera di Commercio aveva accumulato un deficit di 485 mila euro ripianato in modo anomalo dall'ente camerale. Allora sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Il senatore Ulisse Di Giacomo insieme ad altri parlamentari ha presentato una interrogazione urgente al ministro dell'Economia per fare chiarezza sui bilanci pregressi dell'azienda speciale FAI partecipata al 100% dalla Camera di Commercio di Campobasso. Questi fatti riportati dal senatore del nuovo centrodestra. La società di formazione e assistenza alle imprese è stata chiusa e messa in liquidazione il 31 dicembre 2010 con un deficit patrimoniale accertato di ben 485 mila euro e con una perdita di 139 mila euro registrata nell'ultimo anno di attività. I conti però non tornano poiché il bilancio chiuso dall'ultimo presidente della FAI, Paolo Spina, oggi candidato al vertice dell'ente camerale con qualche difficoltà ad essere eletto, riportava un deficit di 367 mila euro e una perdita di 50 mila euro. Tra l'altro i bilanci precedenti della FAI non avevano mai riportato situazioni di deficit talmente gravi da far prevedere la chiusura della società. Su tutta la vicenda pesa il comportamento anomalo dell'allora presidente della camera di commercio Paolo Frattura che non ha mai deliberato azioni a tutela del patrimonio pubblico nonostante un'ispezione del ministero dell'economia che rilevò gravi irregolarità e una indagine della corte dei conti che si è conclusa con una richiesta di danno erariale. La stessa camera di commercio presieduta da Paolo Frattura ha proceduto a tappare i buchi versando fondi propri alla FAI giustificati come anticipazioni senza ricorrere ad azioni concorsuali imposte dalla legge. L'ente camerale ha scelto invece un'anomala liquidazione volontaria della FAI pagando i debiti con risorse proprie 174 mila euro per pareggiare uno scoperto bancario e addirittura il 20 maggio 2013 effettuando un bonifico di 255 mila 461 euro alla FAI da tempo chiusa e messa in liquidazione. Naturalmente trattandosi di anticipazioni erogate a una società decotta non si comprende come la camera di commercio possa recuperare quei soldi né come li abbia riportati nel proprio bilancio. Una vicenda oscura dunque sulla quale il senatore Di Giacomo ha chiesto al ministro di fare chiarezza di verificare se esistono elementi di illegalità o di illegittimità assumendo iniziative a tutela dell'interesse pubblico e ricercando eventuali responsabilità soggettive. Si sono concluse tragicamente questa mattina all'alba le ricerche avviate la notte scorsa di una persona di 51 anni di San Massimo scomparsa nella zona del Matese. L'allarme era stato dato dai familiari dell'uomo del quale da ore non si avevano più notizie. Le squadre del soccorso alpino allertate dalla prefettura e dai carabinieri hanno trovato l'uomo ormai privo di vita in una impervia zona di bosco tra San Massimo e Campitello Matese. Si sarebbe trattato di un suicidio sono stati infatti riscontrati segni evidenti intorno al collo ma sul caso la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo e anche a Santa Croce di Magliano un barista di 40 anni si è tolto la vita impiccandosi nel garage di un'abitazione. L'uomo molto conosciuto in paese non ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri lascia la moglie e una figlia piccola. Passiamo alle elezioni a Termoli. Battaglia colpi di programmi per i due candidati al ballottaggio. A sostenere Angelo Sbrocca è arrivato in città il portavoce nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini. Tra comune e governo ha affermato sono possibili nuove politiche di welfare. Il servizio è di Fabrizio Occhio Nero. Un raccordo tra governo nazionale e comuni per nuove strategie di welfare capaci di dare risposte alla crisi e le richieste sempre più numerose delle famiglie. Angelo Sbrocca che nei giorni scorsi ha partecipato a Roma a un incontro con Matteo Renzi converge sulle linee guida indicate dal Premier puntando su un coordinamento tra tutte le parti coinvolte nel settore del sociale. A sostenere il candidato sindaco del centro-sinistra è arrivato a Termoli il portavoce nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini. Stiamo da questo punto di vista lavorando come governo, come Parlamento, come maggioranza per realizzare le condizioni normative affinché questo possa avvenire. I comuni devono interpretare questa nuova fase mettendosi in gioco in prima persona sapendo fare rete nei piani di zona e cercando di essere in grado di coinvolgere sui progetti di comunità il tessuto vivo della città e della comunità. Il nodo da sciogliere resta però l'aumento della spesa in un settore così importante già gravato dai tagli dei trasferimenti statali. Un po' di invasione di tendenza è stata messa in campo, devono essere fatti ulteriori sforzi perché ogni politica che i comuni possono realizzare per essere più efficacemente spesa deve poter far conto su una leva finanziaria di carattere statale. All'incontro in Galleria Civica hanno partecipato tra gli altri il governatore Paolo Frattura, la segretaria regionale del PD Micaela Fanelli, la deputata Laura Venitelli e gli assessori regionali Petraroia e Facciolla, fiducioso il candidato sindaco del centro-sinistra. Non ci sono stati apparentamenti ma questo non ha un significato perché noi abbiamo una parte politica che ha partecipato alla competizione elettorale e che è una parte politica con una sensibilità sicuramente di centro-sinistra. Quindi io credo e sono fiducioso che questa parte politica proprio per l'assonanza che si ha e per questa sensibilità possa votare verso di noi anche perché abbiamo veramente molti punti in comune anche dal punto di vista programmatico. Focus sulla sicurezza invece per Michele Marone. Il candidato del centro-destra ha presentato le proposte per un piano operativo da attuare a partire dal centro fino alla periferia. Ancora Fabrizio Chionero. Un piano integrato di sicurezza urbana per contrastare e prevenire gli episodi che negli ultimi tempi hanno interessato la città. Michele Marone punta sulla maggiore sinergia con le forze dell'ordine e su ulteriori azioni necessarie per arginare il problema. Una proposta venuta fuori dopo il giro dei quartieri in cui numerose famiglie hanno evidenziato un fenomeno che ha osservato il candidato del centro-destra deve essere affrontato con grande determinazione. Durante questa campagna elettorale ho potuto notare che la gente non si sente più sicura perché ci sono dei fenomeni di vagabondaggio e sono aumentati in maniera vertiginosa anche i furti in appartamento per cui è necessario dalla periferia al centro provvedere ad un'azione sinergica dell'amministrazione con tutte le forze di polizia per ridare la sicurezza a tutta la cittadinanza. Pensate anche di aumentare la videosorveglianza? La videosorveglianza sicuramente sì ma è necessario aumentare una sorveglianza con le risorse umane è necessario battersi e chiedere agli organi preposti alla prefettura e anche al ministero dell'interno ove mai questo si rende appunto necessario di aumentare mezzi e risorse umane. Tra le iniziative anche riunioni, corsi di autodifesa, raccordo con la vigilanza privata, un ufficio per raccogliere le segnalazioni che funga anche da osservatorio sui fenomeni del degrado urbano. Una priorità quella del piano di sicurezza e legalità su cui Marone intende investire molto se vincerà la sfida del ballottaggio. È noto che in genere al secondo turno l'elettorato è sempre calato quindi noi cerchiamo di sollecitare e di convincere tutti coloro che sono indecisi o che comunque non vogliono andare a votare a esercitare il loro diritto di voto e esprimere il consenso sulla mia persona in virtù della moderazione e del buon senso. Un anno perso inutilmente mentre a fine giugno tutti e 68 i dipendenti andranno in mobilità. Il dramma umano dei lavoratori dell'ex Sattorie del Molise ed è anche l'emblematico epilogo di una vicenda fatta di inefficienze, ritardi, mancanza di coraggio. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. La drammatica situazione umana e professionale dei 68 dipendenti di Sattorie S.P.A. merita qualche riflessione necessaria a comprendere le gravi carenze di un sistema regione totalmente incapace di risolvere i problemi reali, quelli della gente comune. La lettera aperta mandata alla nostra redazione da uno dei lavoratori della società finita in concordato meriterebbe di essere letta per intero. La delusione, il rancore, la disperazione di tanta gente finita in mezzo a una strada è palpabile. Si tocca con mano e mette sotto accusa un governo regionale autodefinitosi di sinistra ma che di sinistra non ha nulla visto che gli mancano idee e coraggio per voltare pagina o cambiare verso, come di moda dire tra i progressissi. La verità inoppugnabile è che a questo governo regionale è mancata qualunque volontà di risolvere un'avvertenza che in un'altra realtà sarebbe stata definita in pochi giorni. Prima l'idea di far nascere una società controllata dalla Fimolise che raccogliesse il testimone dalla società di Marcucci attraverso la continuità aziendale. Idea presto abortita grazie a un parere dell'avvocatura dello Stato. Poi l'idea di fare un bando aperto ai privati con l'obbligo di assumere gli ex dipendenti di esattorie. Progetto anche questo abortito in poco tempo. Infine la soluzione minimale di un bando aperto sempre ai privati in cui dare una sorta di premialità per coloro che si impegnino ad assumere gli ex lavoratori. Intanto il tempo passa, la convenzione con l'ACI per la discussione del bollo auto non è stata ancora disdettata. I comuni non sono stati coinvolti. Tutto continua ad andare avanti con approssimazione, superficialità e incompetenza. Si chiamano i lavoratori a presenziare a riunioni inconcludenti mentre è trascorso già un anno. A fine giugno i 68 dipendenti di esattorie saranno licenziati e finiranno in mobilità. In 12 mesi non c'è stato nessuno capace di trovare una soluzione vera per un problema inesistente. La riscossione dei tributi è un obbligo per regione e comuni. I soldi bisogna incassarli. Cosa costava creare un consorzio tra regione e comuni con la regione come capofila? Un consorzio che garantisse la continuità aziendale e ritando anche le professionalità, gli archivi cartacei e i database delle vecchie esattorie? Bisognava solo lavorarci, magari affidandosi a qualche esperto. Problemi economici non ce ne erano e non ce ne sarebbero. Infatti l'agio sui tributi di regione e comuni avrebbe potuto garantire il funzionamento della nuova organizzazione senza alcun inconveniente. La verità è che manca la volontà politica, mancano le idee, ma mancano anche gli uomini capaci di portarle avanti. Questa è la triste realtà di una regione capace di nominare decine di consulenti, ma incapace di risolvere problemi veri, che in un'altra realtà sarebbero stati risolti in un battibaleno. Il Molise non ha cambiato verso. È rimasto quello di 50 anni fa, capace solo di attendere i soldi da Roma, ma incapace anche di spenderli. E c'è alta tensione tra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sernia. Gli stipendi di maggio ancora non sono pagati e le prospettive sono negative. C'è agitazione in via Berta e i sindacati hanno chiesto l'autorizzazione per un'assemblea del personale. Allora sentiamo ancora Enzo Di Gaetà. Gli stipendi sarebbero dovuti arrivare martedì della scorsa settimana, ma tutt'oggi ancora non se ne parla neanche. La situazione di circa 200 dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sernia è angosciante. La certezza del posto fisso e dello stipendio il 27 di ogni mese è venuta meno. Le casse di via Berta al momento sono vuote presso la banca tesoriera del lavoro del piccolo risparmio di Benevento. Sono stati pignorati circa 3 milioni, chiesti dall'impresa Maltauro in virtù di un contenzioso con la provincia risalente a una ventina di anni fa. I fondi promessi dallo Stato, come l'ultima rata dei trasferimenti 2013 o le somme dovute come mancati trasferimenti degli anni precedenti, non arrivano da Roma e chissà quando arriveranno. Insomma il piatto piange, la provincia di Sernia si avvia un tristissimo tramonto, giustiziata prima dalla riforma delle province, che di fatto l'ha azzerata, e poi dalla perenne carenza di fondi. I sindacati, sollecitati dal personale, cominciano solo adesso a capire che si tratta di un'emergenza seria e che potrebbe travolgere anche loro. È una situazione quasi di disperazione perché dobbiamo tenere da conto il personale che vive di un unico stipendio e quindi fare fronte magari a situazioni di mutui, di scadenze e di scorrenti. Siamo stati fin troppo pazienti, chiediamo per questo la riunione del personale intero per analizzare e soprattutto per vedere le azioni da intraprendere che magari potranno essere di supporto e di aiuto a quello che sta facendo l'amministrazione. La situazione è gravissima perché bisogna combattere su più fronti, sul fatto che i soldi dallo Stato non arrivano più con la puntualità che si era solita come per il passato. Il fatto che bisogna tenere da conto di decisioni di giudici che riconoscono la pignorabilità di alcuni fondi che sono destinati all'ente provincia ed è una situazione di una banca che è un po' come dire, forse, forse lo dico tra virgolette, non all'altezza di un compito così gravoso per calità, devono pure loro legittimamente tutelare i propri interessi. C'è forte malcontento tra il personale, qualcuno mette sotto accuso i sindacati, dicono che i sindacati non fanno niente, sono d'accordo con i politici, non protestano. Insomma è vero questo o no? No, credo di no perché siamo stati fin troppo pazienti, noi non vogliamo aver voluto dare fastidio ai manovratori, a chi ha per compito istituzionale il dovere di tutolare i dipendenti. Abbiamo cercato di fiancheggiare i nostri amministratori che devo riconoscere sono preoccupatissimi di questa cosa e so che stanno spendendosi per cercare di evitare questa gravissima situazione. Però a ogni fase, a ogni circostanza, a ogni situazione c'è poi inevitabile se le situazioni precipitano una reazione. Quindi siamo fin troppo pazienti però siamo pronti a tutto. Le consigliere regionali Angela Fusco Perrella e Nunzia Lattanzio hanno presentato una proposta di legge per istituire il garante regionale dei diritti della persona. Proposta che hanno spiegato all'obiettivo di riunire le funzioni di garanzia in capo a un unico soggetto che sia nel contempo responsabile della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni, custode e promotore dei diritti dei minori garante del rispetto dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale. Questa figura, hanno spiegato Fusco Perrella e Lattanzio, vuole segnare un nuovo percorso di intesa tra cittadini e pubblica amministrazione. Il testo normativo contiene 19 articoli divisi in tre titoli. Isernia sotterranea è il tema di un convegno che ha avuto per protagonisti gli studenti del liceo classico. Oltre a fare scoperte molto interessanti nel sottosuolo della città, hanno ipotizzato anche un possibile percorso turistico. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Il Tempio Romano nei sotterranei della cattedrale non fa altro che confermare quanto diversi studiosi sostengono ormai da tempo. Esiste un'altra esernia sotto la città che tutti conosciamo. Oggi se ne torna a parlare grazie a una ricerca condotta dai ragazzi del liceo classico Fascitelli. Ma gli studenti non si sono fermati qui, sono andati oltre, proponendo anche un progetto di valorizzazione di questa risorsa. Sfruttando l'antico acquedotto costruito dai romani e le sue cisterne, infatti, si può creare un percorso turistico. Questo è un progetto di valorizzazione di un sito che noi riteniamo essere particolarmente interessante, in quanto è un sito di origine romana, quindi rientra bene in un circuito che vede sia il Tempio latino sia l'acquedotto all'interno della città. E poi è particolarmente interessante in quanto noi pensiamo di aprire alla cittadinanza un tragitto, un percorso con l'ingresso in Vico d'Afflitto e l'uscita in Vico San Felice. L'acquedotto romano in effetti è ancora in buona parte funzionante e dunque percorribile. Per metterlo a disposizione dei turisti basterebbe poco, cioè ripulirlo e illuminarlo. Ricordiamo che ha uno specus di oltre 3.300 metri, quindi attraversa la città, innanzitutto una parte con primo tratto che è esterno, quello che va dal Caputacque, cioè di Miranda fino alla Ponte dell'Acqua e poi attraversa l'intera città in maniera ipogea, sotterranea e tocca delle profondità di oltre 25-26 metri. Ed è una struttura che poi trova la luce nella zona attualmente chiamata il Pozzo, quella nei pressi del Monumento dei Cadui, dove c'è un castello, un macco e una sorta di vasca di decantazione. Un'altra interessante scoperta, fatta dai ragazzi del Classico, è quella di una pianta archeologica inedita, frutto degli studi condotti nella seconda metà dell'Ottocento dall'allora sindaco Domenico Antonio Milano. Ha notato una serie di strutture particolarmente interessanti. C'è un castello medievale, ci sono chiese che al momento non sono più rintracciabili ma che hanno lasciato dei segni nella storia della città. Parliamo ora di medicina e parliamo di una tecnica innovativa per il trattamento dell'aneurisma addominale. È stata sperimentata con successo al reparto di chirurgia vascolare del Cardarelli di Campobasso. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Il reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, guidato da Luca Iorio, ha sperimentato una tecnica innovativa per il trattamento dell'aneurisma addominale con endoprotesi. Un protocollo mai utilizzato prima in Italia che pone il Molise all'avanguardia nella cura di questa particolare patologia. La vera novità sta nel fatto che l'intera procedura è stata fatta senza utilizzare del mezzo di contrasto iodato ma utilizzando soltanto la nitide carbonica come mezzo di contrasto. Quali erano i problemi che causavano l'utilizzo del mezzo di contrasto, quello tradizionale insomma? Il mezzo di contrasto tradizionale che viene utilizzato in angiografia ha il problema che ha una notevole nefrotossicità per cui in molti pazienti che hanno un'insufficienza renale o in pazienti che sono allergici allo iodio o hanno problemi di natura oncologica molto spesso il mezzo di contrasto non può essere utilizzato. Ragion per cui sono diversi mesi che noi stiamo utilizzando l'anidide carbonica soprattutto nel trattamento delle arteropatie degli arti inferiori e oggi qualche giorno fa l'abbiamo utilizzato per il posizionamento delle endoprotesi e in questo siamo il primo centro in Italia ad effettuare questo intervento di ripeto di posizionamento delle endoprotesi utilizzando solo ed esclusivamente l'anidide carbonica. Il paziente come sta? Il paziente sta bene, la procedura è stata eseguita tutta per via per cutanea senza nessun tipo di incisione chirurgica per cui come avviene in questi casi in seconda giornata il paziente è stato dimesso quindi è a casa, sta bene. Il protocollo sarà ripreso dalle principali riviste specializzate e portato all'attenzione del congresso di settore in programma a Rimini il prossimo autunno. I risultati delle analisi del sangue di laboratorio sul computer o sul proprio cellulare dal primo giugno è possibile anche in Molise grazie al nuovo sistema informatico adottato dall'azienda sanitaria regionale. I cittadini dovranno iscriversi e richiedere una password con la quale potranno stampare i risultati delle analisi direttamente a casa propria. Le informazioni più dettagliate saranno fornite dal personale medico in servizio nei singoli laboratori dove avvengono i prelievi. Ancora medicina, ancora sanità, la Fondazione Giovanni Paolo II si prepara ad ospitare un evento scientifico di portata internazionale. Un seminario di tre giorni sulla cura e il trattamento dei tumori ginecologici. Le anticipazioni ancora con Anna Maria Di Matteo. Corso di alta formazione sulla cura e il trattamento dei tumori ginecologici alla Fondazione Giovanni Paolo II. Un evento di rilievo internazionale in programma dal 9 all'11 giugno al quale parteciperanno esperti nazionali e quelli provenienti da diversi paesi. Un momento di confronto sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sull'uso dei nuovi farmaci. Sarà una tre giorni di chirurgia dedicata ai temi fondamentali delle patologie principali delle donne, il cancro ovarico, il cancro della cervice e l'endometriosi che è una malattia sociale che impatta sulla qualità della vita della donne. Verranno i migliori chirurghi dall'Italia, dal nord dell'Italia e dalla Germania con tre giorni di chirurgia in diretta. È un evento enorme perché organizzare tre giorni l'isargeri richiede un impegno e una dedizione notevoli. Siamo molto contenti. Speriamo che possa servire di confronto a tutti quanti i corsisti e gli operatori per acquisire nuove conoscenze e migliorare il trattamento di questi tumori e di questa patologia all'endometriosi che è una patologia fortemente invalidante. Il lunedì sarà dedicata al cancro ovarico, quindi ci saranno una serie di interventi al mattino e delle relazioni al pomeriggio per chiarire il trattamento di una patologia che è molto misconosciuta. È il tumore che uccide il maggior numero di donne in Italia. La seconda giornata sarà dedicata al tumore della cervice, alla prevenzione del tumore della cervice, alla chirurgia del tumore della cervice, sia come chirurgia radicale, sia come trattamenti conservativi per le donne che hanno ancora desiderio di gravidanza e che vogliono attraverso dei trattamenti mirati poter sconfiggere la malattia ma nel contempo conservare la possibilità di avere un figlio. E la terza giornata, che è quella a cui tengo di più, sarà dedicata all'endometriosi, che non è una patologia oncologica, ma noi abbiamo deciso di inserire comunque nel trattamento delle patologie gravi della sfera pelvica addominale perché è una patologia silenziosa ma che rende la vita delle donne una vita difficilissima. Siamo in chiusura ma prima di salutarvi vi ricordo che ancora in corso all'Università del Molise è la due giorni dedicata all'assistenza dei disabili, come migliorare i servizi fornendo gli strumenti più opportuni e all'avanguardia. È il titolo infatti del convegno che si sta svolgendo dedicato a medici e infermieri. Esperti del panorama molisano e non continueranno ad affrontare la tematica anche domani, sempre all'Università del Molise. Termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre, ringraziandovi perché scegliete la nostra informazione. Buonanotte.